ecco a voi un video al limite dell'incredibile aiuto un fantasma aiuto Gabriele un sorriso per la stampa grazie mamma mia monster per monster ah merediglio monster ah di me mi ha scritto a Roma come stai a spostare? come stai a spostare? e te non ti ha spostare? dai che stai dove stai? dove stai? non mi ha spostare? sei bruttissimo io ho scoperto vedete che sulla cuore ah nel senso ah ma tu sei buon messo senti questo stucco ma tu sei buon stucco come mai mi ha detto che non va a parlare la coppa dei pappi non va a parlare ma cosa non va a parlare? no bello no perchè non va a parlare con la pappa non va a parlare? perchè non fai parlare con la pappa? ma che buono poi di col peluccio? no Sotto sotto la... Sotto verso un coppa, Zulu. Zulu, lo sta lottando all'alato. Chiudi, voi. La cosa in tutto. Sotto verso un coppa, quello si sta su, che me ne f***o? Eh, quello, 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 è... La madre. E' lei di questa c***a, va. E' lei di questa c***a, va. Sta parlando la mano, la fede. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ah, che c***a. Mamma, prenda la barba, no. Che ha fatto? Ma che barba? No, mamma, mi rimane un po' il coppo coserto. Non lo farò. Eh, prenda la barba. E' imbiata. Vieni fuori, mamma. Beh...